E' stato uno dei temi ricorrenti della campagna elettorale per le politiche 2022. Parliamo di sanità e del decreto Molise, provvedimento vaticinato dal centrodestra come possibile via d'uscita dalle secche nelle quali dall'Ustri è arenata la sanità molisana. Solo propaganda elettorale. E' questo il pensiero dell'ex sindaco di Campobasso e attuale consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, che prende spunto dalle recenti dichiarazioni di Lorenzo Cesa. Il segretario dell'Udc ha di recente posto l'accento sulle difficoltà, soprattutto di carattere economico, che graverebbero sul decreto Molise. Nelle sue stesse dichiarazioni si legge davvero la pochezza delle promesse fatte, perché tanto lo sapevamo tutti, ma mi rendo conto che quello era il periodo in cui si spingeva appunto verso il centrodestra e una persona che promette un decreto Molise e esso stesso dichiara che oggettivamente è difficile oggi, a novembre aveva parlato che il decreto Molise era pronto. Oggi scopriamo che il decreto Molise probabilmente non ci sarà mai e addirittura si parla di PNRR come se fosse merito del governo Meloni o dell'onorevole Cesa che ci sono dei progetti approvati all'interno della regione Molise dai comuni. Quindi davvero guardate sono dichiarazioni imbarazzanti rispetto alle quali io mi auguro davvero che ci sia una presa di distanza da parte di tutta la politica perché non è possibile accettare questo tipo di comportamenti. Oltre il decreto resta sullo sfondo della vicenda la questione sanità un tema la cui soluzione diventa vitale per il Molise e che sarà oggetto il prossimo 14 febbraio di un consiglio regionale monotematico chiesto dalle opposizioni. A precedere il consiglio il giorno 12 sarà l'audizione in quarta commissione dei commissari Bonamico e Di Giacomo. Ecco, resta sul tavolo però la questione sanità. Eh appunto, quella è la questione più delicata, noi lo affronteremo in un consiglio monotematico dopo aver ascoltato la struttura commissariale. Faccio presente anche questo che quando parliamo di sanità io ero sindaco del comune di Campobasso, andammo a Roma il ministro Schillaci promise 3 miliardi sulla sanità non c'è traccia di questo, so che ci sono stati mal di pancia dello stesso ministro perché sono promesse fatte e rispetto a quelle promesse addirittura si parlò davanti a tutti i sindaci, compreso l'attuale presidente della regione di un superamento del famoso Balduzzi con il riconoscimento di un DEA di secondo livello per Campobasso e DEA di primo livello per Termoli e Isernia. Anche di questo ad oggi non abbiamo traccia anzi registriamo un'ulteriore contrazione dei finanziamenti verso la sanità pubblica e rispetto al PNRR, così mi riaggancio a quello che ha detto lo stesso onorevole Cesa c'è stato un taglio delle risorse al sud soprattutto per quanto riguarda il dissesto idrogeologico e altre misure a tutela del territorio. Se questo, insieme all'autonomia differenziata, è attenzione al sud con l'aumento delle imposte che la Regione Molise ha dovuto sopportare per mantenere in piedi la baracca mi chiedo davvero che senso abbia ancora oggi credere a queste parole.